Ciao a tutti che sono di un di questo nuovissimo video di Happy Wheels Allora Iniziamo subito con i livelli che mi avete dato voi Questo l'avevo già fatto, non mi ricordo Ma dato che c'è 2153 visite Voglio vedere se l'avevo già fatto Non l'avevo fatto Oddio 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 Ok Shoutout to LOL Passiamo al Rumi Mario 8 9 voci Molto alto Vediamo Com'è che si faceva con le... Prova a finire questo livello Perché c'è un mobbino morto? Ok, ora ho capito Ehm... Come fare? Non si può Sì? Sì 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 la baguette si è buona che schifo vrenti ce l'ha sputato sopra come cacchio si fa perfetto oh ecco come si fa vai no non così ok attenzione alla testa no intanto c'ho il fappone vente che in posizione è comoda vai ma trovo basta oddio cosi ok ho fatto e fatto posso ancora muovermi? non posso più muovermi mi fa più la baguette deve essere tua la coca cola si la coca cola almeno e poi poi non lo so cioè è buona ok però non è che mi piaccia non è che mi piace anche e se vuoi anche perchè ma te sei si è scappato vrenti la coca cola non mi piace perchè quando la bevo ho una sensazione di non bere niente mi spiego se io bevo la coca cola e ho sete quando ho finito di bere la coca cola ho solo più voglia di bere la coca cola ma non è che mi passa la sete i don't know if you know what i mean what the fuck is that oh i'm still alive oh i believe i can fly dai è come se avessero progettato la coca cola per farla bere sempre di più no veramente bere coca cola per quanto buono possa essere sono prima a dirlo che è buona quella cosa però ti dà ti dà che bello vai grant maleducato what the fuck I'm dead oddio oddio per poco oddio c'è una limite per me indietro no non buono no buono oddio si no morto perfetto per questo episodio penso posso bastare no scherzo facciamo un altro ehm sort by ehm play count la nostra festa non deve finire e non deve finire e non finirà e alleluia 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 grab cos'era control space oh 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 oddio qualcuno aveva lavorato solo per prendere quegli ortaggi bisogna bisogna avere rispetto go back no devo andare avanti fappone oh non si può saltare peccato slow down slow 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 oh dai un po' alla volta oh make cause self explosion mamma mia che cosa oddio è straprosto livello oh attenzione oddio non ce la fa non ce la fa si ce la fa perchè io sono surreale io posso lui no io posso lui no oh vai avanti no cattivo bene ragazzi per questo episodio era tutto vi invito a farmi dei nuovi livelli io cercherò sempre per assurre il power tutto attaccato eh altre cose sarebbe troppo fapposo e quindi non lo farò quindi cliccate mi piace se il video vi è piaciuto anche solo un pochino perchè se non vi è piaciuto vero a casa vostra vi piccherò a morte ma quelli sono dettagli ciao a tutti